La Fashion Week a Milano è l'evento sempre più difficile, sempre più importante, dura qualche giorno o meno degli anni passati con molti più show e di conseguenza una grande organizzazione necessaria per far sì che tutto fidi di show. Dietro le quinte di una sfidata di moda, di un grande evento è molto importante perché sia da un punto di vista commerciale, nel caso che il brand sia un produttore anche di cosmetici, di maker, sia perché la gente, i giornali, il pubblico vuole vedere dietro le quinte, vuole sapere cosa succede dietro l'organizzazione di un grande evento. Sono le foto verità quello che la gente crede che sia l'assoluta realtà, il momento vero della vita. Quest'anno, durante la Fashion Week, Leica mi ha chiesto di testare il nuovo prototipo della nuova macchina, Leica SL. È stato un grande piacere, una grande scoperta, trovare una macchina, un mezzo che mi ha permesso di scattare ad altissima sensibilità, potendo utilizzare i diaframmi e i tempi che volevo io, con un autofocus veramente veloce e soprattutto un file finale veramente eccezionale. Tutto questo è stato un grande aiuto e sicuramente mette Leica tra le macchine più importanti sul mercato. Conoscevo già le lenti ovviamente perché sto scattando da tantissimo con la Leica S ed è stato bellissimo ritrovare la stessa qualità e la stessa plasticità sulle lenti, sia della SL che della Q. La Q che mi accompagna spesso dappertutto è la macchina che c'è sempre in borsa, in valigia, in mano. La S quando sono in studio e adesso la SL che ho avuto appunto la possibilità di testare in quest'ultimo periodo mi hanno solo confermato questa altissima qualità sulle optiche. Non avrei mai pensato che una mirrorless potesse diventare un mio vero strumento di lavoro. Grazie per la visione!